Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi parlerò del nuovo editor di WordPress che potrebbe crearvi qualche problema. Se avete sempre lavorato con il vecchio editor, passando al nuovo potreste andare in crisi. Ma vi posso assicurare che il nuovo editor di WordPress è davvero molto semplice, davvero molto comodo, ricco di funzionalità che imparerete ad utilizzare nel tempo. Ma in questo video voglio darvi un'infarinatura base. Come funziona? Allora, avete questa situazione di fronte. Qui aggiungete ovviamente il titolo dell'articolo e poi dovete aggiungere dei blocchi. A differenza del passato dove avevate a disposizione questo, in WordPress adesso ci sono i blocchi. Quindi, cliccando su più potete aggiungere un paragrafo classico, cioè come quello che vi ho mostrato prima, cliccando qui, un paragrafo moderno, un titolo, un elenco, un'immagine, YouTube e così via dicendo. Ho una citazione. Avete la possibilità di scegliere tante, tante cose a seconda della vostra esigenza. Ad esempio, se volete scrivere normalmente un testo potete partire fin da subito. Da qui poi avete la possibilità di trasformare il testo in un titolo, ad esempio, trasformarlo in un paragrafo classico, eccetera, eccetera. Quindi potete creare molti, molti, molti blocchi, come potete vedere, con, diciamo, vari elementi. Quindi, ad esempio, qui inserisco la punteggiatura, cioè l'elenco puntato. Qui inserisco un'immagine che vado a sceglierla, ad esempio, dalla galleria o la carico dal computer, in questo modo. Qui inserisco un'altra cosa e così via dicendo, ad esempio, una citazione. La cosa interessante risiede nel fatto che, essendo strutturato a blocco, io posso spostare gli elementi, ogni elemento, dove voglio. Quindi in alto, in basso e così via dicendo. In questo modo, diciamo, ad esempio, se voglio che l'immagine sia sopra il titolo, io faccio così e lo sposto in alto, come potete vedere. Insomma, cliccando su più, avete a disposizione tutti gli strumenti necessari per creare il vostro articolo. Davvero molto semplice, ve lo posso assicurare. E se un blocco non vi soddisfa, potete sempre rimuoverlo. Quindi cliccate sul blocco, sui tre puntini, e poi rimuovi blocco. In questo modo viene cancellato. Cliccando poi su ogni blocco, come vedete, avete la possibilità di accedere a ulteriori strumenti. Ad esempio, modifica come HTML, per visualizzare appunto l'HTML del blocco scelto. O tornare alla modalità visiva. Quindi, diciamo, è come il vecchio WordPress che vi permetteva di tornare dall'HTML al normale, con la differenza che qui potete farlo per ogni singolo blocco. In basso non cambia nulla, avete gli strumenti SEO a disposizione. Sulla destra invece avete le categorie, i tag, le immagini. Qui non cambia praticamente nulla, è identico al vecchio WordPress. Quindi funziona allo stesso modo, nulla di particolarmente complesso. Da notare una cosa però, che quando tornate a lavorare sul vostro articolo, si passa da documento a blocco. Quindi, cliccando sul documento, tornerete in questa schermata. Potete salvarlo in bozza, pubblicarlo, eccetera, eccetera. Quindi, qui non cambia nulla. La vera difficoltà, se così posso dire, risiede nella gestione dei blocchi. Io vi posso assicurare che è una cosa che con il tempo amerete, perché è davvero molto utile, molto semplice. Avete a disposizione una serie infinita di strumenti, come potete vedere. Potete aggiungere Spotify, Vimeo, un video YouTube, un post su Twitter. Ad esempio, cliccando su Twitter e incollando l'url del post, potete incorporarlo tranquillamente. Insomma, questo nuovo editor è davvero fantastico. Per averlo, non vi resta che aggiornare WordPress all'ultima versione disponibile.